Numero 5. La scopa elettrica senza fili Roventa X Nano Essential è il prodotto ideale per chi cerca praticità ed efficienza. Con la sua leggerezza e maneggevolezza, è perfetta per lavori veloci e leggeri su qualunque tipo di superficie. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che la potenza aspirante è abbastanza bassa, rendendo difficile la pulizia di sporco ostinato. La batteria a litio da 14,4 Volt garantisce un'autonomia massima di 40 minuti, sufficiente per svolgere le pulizie quotidiane. Inoltre, la batteria è estraibile e il tempo di ricarica è di soli 3 ore. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 4. La scopa elettrica senza fili Roventa X Force Flex 15.60 è sicuramente un prodotto che non delude le aspettative. La sua potenza aspirante è notevole, grazie alla batteria da 32,4 Volt. Il display informativo è dettagliato e permette di regolare la potenza di aspirazione in modo automatico. Inoltre, il pacchetto accessori è ricco e la manutenzione è facile. La scheda tecnica è molto soddisfacente, con una buona autonomia di 80 minuti, una batteria estraibile e un tempo di ricarica di sole 3 ore. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 3. La Roventa X Force Flex 8.60 Allergy è una scopa elettrica senza fili che promette prestazioni eccellenti. Dotata di una batteria a litio da 22 Volt e 2 intensità di aspirazione, garantisce un'autonomia di 35 minuti e una buona capacità di filtrazione grazie al filtro ad alta efficienza. Il vero punto di forza è il tubo pieghevole, che consente di raggiungere facilmente gli angoli e passare sotto i mobili. Anche la spazzola motorizzata con LED è un'ottima aggiunta, mentre il peso di 3 kg potrebbe risultare un po' pesante per alcune persone. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 2. Roventa X Force Flex Animal Care è la scopa elettrica senza fili ideale per chi desidera una pulizia profonda e accurata in ogni angolo della propria casa. Con una batteria da 25,2 Volt e un'autonomia massima di 45 minuti, questa scopa elettrica è perfetta per pulire grandi superfici senza la preoccupazione di rimanere senza energia. dotata di una spazzolina motorizzata per imbottiti e di un tubo pieghevole, raggiunge facilmente tutti i punti più difficili da raggiungere, assicurando una pulizia completa. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. Questa scopa elettrica senza fili Roventa Dual Force 2 in 1 è una soluzione pratica e leggera per la pulizia quotidiana. Grazie alla batteria da 18 Volt, offre un'ottima autonomia di 45 minuti, più che sufficiente per le stanze di medie dimensioni. I punti forti sono l'aspirabriciole estraibile, il manico pieghevole e la leggerezza del prodotto. Tuttavia, la potenza aspirante risulta piuttosto bassa e potrebbe non essere adatta per pavimenti delicati. La scheda tecnica riporta tutti i dettagli e i voti nella guida all'uso. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.